iPad Air con processore M1 è sul mercato da un mesetto abbondante e io lo so, l'ho appena definito tablet perfetto. Sto esagerando? Forse sì, forse no. Ho però meditato molto su questa affermazione e vorrei spiegarvi tutto dopo la... Sigla! Bravissima. Ovviamente prima di iniziare avete dei compiti molto importantissimi. Dovete iscrivervi al canale e attivare la campanellina, ma soprattutto seguirmi su TikTok. Niente, vi ho fatto lo scherzone. Facciamolo crescere quest'account di TikTok, forza, forza, forza. Anche quello di Tech Princess. Di Tech Princess, certo. Dopo la pubblicità a progresso, torniamo al nostro protagonista odierno. iPad Air 2022 con processore M1, il nuovo processore proprietario sviluppato da Apple. Ma a chi è dedicato? E perché secondo me è l'iPad perfetto? Perché ha tutto quello che serve senza nessun compromesso di sorta. Spieghiamo un attimo un po' di cose. L'universo iPad si sta arricchendo sempre di più con sempre più versioni e sempre meno differenze evidenti l'uno con l'altro. Questo potrebbe creare tanta confusione, lo capisco molto bene. Sono stata anche io in difficoltà nel giudicarlo inizialmente, ma dopo un po' di tempo ho forse raggiunto una risposta per voi. Comunque sappiate che qui sul canale c'è un video made by Garrick con il mega confrontone tra tutti gli iPad esistenti in commercio. Partiamo dal presupposto che io, come la maggior parte della popolazione, è statistica, facciamo del tablet, uso, chiamiamolo, basilare. Leggo le mail, uso tantissimo l'Apple Pencil per prendere appunti su note, ho i PDF con le varie annotazioni, eccetera, eccetera. Non sono però solita a montare video, non faccio foto con il tablet perché me lo vieta la mia religione e non progetto complicati prodotti in CAD perché non ne ho le competenze e neanche le necessità. Questo mio uso quindi all'inizio non mi ha fatto minimamente percepire le differenze tra iPad Pro, che io ho e ho in uso il 13 pollici, e questo iPad Air. Anche perché a prima vista il design è esattamente identico, se non per alcuni piccoli dettagli. Le funzioni di base inoltre sono assolutamente condivise, partendo dalle prestazioni, sia per operazioni che richiedono basse risorse, sia per quelle che ne richiedono di più. E poi è garantita anche la compatibilità con l'Apple Pencil di seconda generazione, ma anche la Magic Keyboard che è esattamente la stessa. Quindi, che cosa caspita cambia? Le differenze tra iPad Air ed iPad Pro sono principalmente quattro. Il display, i tagli di memoria, il comparto fotografico e il connettore USB-C. Vabbè dai, aggiungiamoci anche il prezzo. Queste quattro differenze infatti fanno ballare tra i due all'incirca 140-200 euro di differenza. Mi spiego meglio. iPad Air Wifi da 64GB non espandibili costa 699 euro, mentre l'iPad Pro da 11 pollici sempre Wifi costa 899 euro, però con un taglio minimo di 128. Il risultato sono 200 euro tonditondi. Se invece volete fare un confronto equo, con lo stesso taglio di memoria da 256 giga, vi ritroverete iPad Air a 869 euro, mentre iPad Pro 11 pollici a 1.009 euro. Se la calcolatrice non mi inganna, sono 140 euro in differenza puliti puliti. Adesso che mi sono ubriacata di numeri possiamo tornare alle nostre quattro differenze. Il display da 10,9 pollici di iPad Air è un liquid retina con true tone. Ciò che differisce rispetto ad iPad Pro è la presenza di quello che Apple chiama ProMotion e che altro non è che la frequenza di aggiornamento del display a 120 Hz. Forse perdere qualcosina in fluidità di scrolling, ma nulla di trascendentale. Ve lo assicuro non avrete problemi giocando a giochi belli tosti, tipo Oceanhorn 2 su Apple Arcade, e nemmeno mentre guardate i vostri film preferiti su Netflix. Altro discorso è l'assenza del mini led. Se ci tenete ad avere dei neri profondi e una fedeltà dei colori ancor più evidente, dovete puntare su iPad Pro da 13 pollici, con una conseguente lievitazione dei costi. E non di poco. Dobbiamo poi parlare per forza della memoria interna. Due soli tagli di memoria, 64 gigabyte oppure 256, senza troppe vie di mezzo. Io personalmente uso un numero limitato di app sul tablet. Non carico foto, non faccio video e in caso se mi servono li trasferisco direttamente con airdrop dall'iPhone al tablet per godermeli un po' più in grande. Uso solo le mail e qualche pdf bello corposo su cui prendere appunti. Fatta questa permessa, per me bastano e avanzano 64 giga. Se invece sapete che senza spazio di memoria la vostra vita non ha un senso, avete già capito che fare. Fino a 256 giga siete coperti da iPad Air. In alternativa dovete andare su iPad Pro, che arriva fino a 2 terabyte. Ricordo a tutto il pianeta che iPad non ha memoria espandibile su nessuna delle versioni presenti sul mercato. Quindi ragionate bene la vostra scelta. Magari considerando non solo l'uso che fate ora, ma cercando magari, nel limite del possibile, di prevedere il futuro. Vi faccio l'esempio triste dell'esperienza della Gerica. Vi racconto questa triste storia perché è ancora una ferita aperta. Nel lontano 2014 la Gerica comprò un iPad Air cellular da 16 giga. Nella sua testa un pochettino bacata e non l'avrebbe usato tantissimo e con poche app. In realtà dopo sei mesi non è stato così e le app sono aumentate diventando tantissime. Fino a che a un certo punto non riusciva manco più a fare gli aggiornamenti. Rip al suo iPad. È vero che è durato quasi sette anni, ma se non fosse stato per lo spazio probabilmente se lo sarebbe tenuto e sarebbe ancora qui con noi e visserebbero tutti felici e contenti. Ma così non è mua. Lo raccontate bene? Guarda non avrei saputo raccontarla meglio. Immaginavo. Torniamo a noi. Comparto fotografico. In questo caso è dotato di una sola fotocamera posteriore grandangolare da 12 megapixel. Mancano lo zoom ottico, il sensore ultra grandangolare e il sensore LiDAR che ricordo essere un sensore che aiuta nella messa a fuoco rendendola più precisa e che viene utilizzata per alcune applicazioni che scansionano oggetti e ambiente circostante. Ci sono app utilizzate per diletto oppure per scopi professionali. Se non sapete che cosa sia il LiDAR beh, significa che non ne avete di certo bisogno. Concludiamo con la quarta e ultima caratteristica differente. A prima vista la porta di ricarica USB-C potrebbe sembrare la stessa e invece c'è una differenza sostanziale. Su iPad Air ha le funzioni di ricarica e può essere usata per collegare alcuni display a SSD esterni. Su iPad Pro abbiamo invece lo standard Thunderbolt 4. Cosa cambia? Il Thunderbolt permette di trasferire file più velocemente fino a 40 gigabit per secondo e di collegare più accessori esterni ad iPad. Se non lo usate a livello professionale probabilmente non avete bisogno nemmeno di Thunderbolt 4. Dopo questa lunga e completa di esamina posso ancora affermare che iPad Air 2022 con precessore M1 sia il tablet perfetto? Direi di sì. Con l'aggiunta della Magic Keyboard e di Apple Pencil si trasforma in uno strumento versatile che si affianca a un PC portatile senza sostituirlo. E ho fatto anche la rima. Mancano quindi delle tecnologie care che però non servono a un utilizzatore medio. Inoltre iPad è un dispositivo capace di durare per anni se tenuto con cura. Insomma se avete bisogno di un iPad che faccia tutto senza strafare la soluzione perfetta è iPad Air. Se volete sapere altro su iPad Pro, iPad Mini, iPad di nona generazione qui nell'info box avete tutto ciò di cui avete bisogno. Che in realtà sono le nostre fantastiche recensioni. Noi ci vediamo in un prossimo video. Spero che vi sia stato utile. Ciao!